Salve, sono Marco Coraggio, insieme a Giuseppe De Marco abbiamo realizzato un allestimento qui a Palazzo Geraresi sul discorso della valorizzazione dei beni culturali e storici, avendo avuto la possibilità di lavorare in questo edificio, l'edificio storico di Salerno che da anni giace in condizioni di abbandono, abbiamo avuto l'idea di sfruttare l'unico elemento che poi materialmente abita e vive da anni in questo edificio che è il vento, attraverso l'uso di vele marine che applicate ai balconi di questo edificio idealmente simboleggiassero una nuova partenza, una nuova vita, quasi come se fosse un vascello. Abbiamo approfittato anche dell'invito delle sovrintendenze per portare avanti il lavoro che nasce un paio di anni fa e questo connubio fra due artisti. La sperimentazione sta nel fatto che improvvisamente decidiamo di lavorare insieme. È difficile quando due artisti con due background culturali diversi riescono a confrontarsi in maniera creativa perché ognuno di noi ha proprio un bagaglio di convinzioni e di nostri luoghi comuni. Allora abbiamo deciso di appianare qualunque pretesa dialettica e di partire direttamente dai quattro elementi. Quindi abbiamo fatto un primo lavoro che era sull'acqua, ce n'è uno in questo momento che sul fuoco qui per Door to Door ne abbiamo approfittato per installare il discorso del vento. È chiaro che per noi non è solo Door to Door ma è un percorso di progettuale che stiamo portando avanti e che finisce in questa quasi logia dei quattro elementi.